Ciao a tutti o a nessuno, visto che questo è il mio primo video su YouTube. Mi chiamo Eleonora Bisceie e ho 14 anni, anche se sembro decisamente più piccola, però sono 2005. Infatti a settembre inizierò il mio secondo anno nel liceo delle scienze umane, che adoro. Perché soprattutto la psicologia mi affascina tantissimo e sono molto interessata anche a tutte le altre scienze umane. Ho un fratello e una sorella che sono molto più grandi di me, infatti non abitano nemmeno in questa casa. E abbiamo tra l'altro tre madri diverse e un solo padre che ci accomuna. Mia sorella si chiama Giulia e mio fratello invece si chiama Gigi. Ho anche una gatta che vive in casa mia insieme a me e mia madre, che si chiama Meringa. E' attualmente incinta, infatti sono così contenta per questo, anche perché è la prima gravidanza di un mio animale. Infatti prima avevo un'altra gatta che si chiamava Freccia, però l'abbiamo subito sterilizzata. E avevo anche un cane che abbiamo poi dato via durante il trasloco perché mi sono trasferita tantissime volte in soli i 14 anni della mia vita. E questo cane si chiamava Cleo, cioè si chiama anche adesso Cleo. So che può sembrare un nome da femmina, ma l'abbiamo preso in canile e gli avevano già dato questo nome. Inoltre era grande, aveva circa due anni e mezzo o tre e non potevano cambiare il nome perché ormai ci era abituato. Faccio pattinaggio artistico? Ormai da due anni e mezzo. Ho iniziato quando avevo 12 anni, ho iniziato il 16 gennaio del 2018. Ho guardato ieri il mio diario e c'era questa data. Quindi sono ormai più di due anni, due anni e mezzo. Il prossimo 16 gennaio fanno tre anni. E ha duro il pattinaggio. Anche se in precedenza, prima di trovare lo sport della mia vita, ho fatto moltissimi altri sport. Ho fatto ginnastica artistica e ritmica insieme per quattro anni e atletica per due anni. Continuo però ancora adesso a fare delle gare scolastiche di corsa perché sono abbastanza veloce. Non la migliore, di sicuro non la migliore, però abbastanza veloce. Non ho invece TikTok perché sono una persona estremamente pigra e non mi va di fare i valletti, quindi li guardo solo. E per guardarli mi basta Instagram. Desidero fare video su YouTube da almeno due anni, ma non li ho mai fatti perché sono, oltre che pigra, anche estremamente timida. E non riuscivo mai a trovare il coraggio per pubblicarli. Quindi, come un po' tutti fanno, facevo dei finti video su YouTube. Cioè, facevo dei finti video per YouTube con la mia fotocamera, senza però mai pubblicarli, senza fare un vero video di presentazione. E non usavo mai incominciare veramente per pubblicare un video. E oggi l'ho fatto. Cioè, probabilmente questo video uscirà giorni dopo rispetto al giorno in cui l'ho fatto. O il giorno stesso non ne ho idea. E non so nemmeno se uscirà in verità, perché sono molto timida e non so se riuscirà a trovare il coraggio. Ma questo è il primo video serio che faccio. Niente, questo era tutto per ora, visto che questo dovrebbe essere un semplice video di presentazione, anche se un po' lunghetto. E spero di pubblicare magari un video la prossima settimana. Dipende molto da come va questo video e da se pubblicherò questo video. Comunque, se tutto va bene, noi ci vediamo la prossima settimana, chi ne vuoi voi siate. Ciao a tutti!